buongiorno a tutti ci ritroviamo oggi per un webinar inusuale in preparazione diciamo di un bando di cui stiamo attendendo la pubblicazione come sapete oggi parleremo di creative living lab il bando dedicato diciamo attualmente dedicato alla rigenerazione urbana del ministero della cultura un bando che nasce nel 2018 una prima edizione focalizzata diciamo centrata sulla volontà di portare iniziative di carattere culturale nelle periferie e che in questi quattro anni si è evoluto fino appunto a definire questa forma di attenzione ovviamente sui processi di rigenerazione urbana come vi dicevo siamo ancora in attesa della pubblicazione della sua quarta edizione quindi del bando 2022 abbiamo coinvolto però il professor lucio organo che è stato il presidente della edizione della commissione di valutazione per l'edizione creative living lab 2021 un'edizione che ha visto un proliferare di domande tenete conto che nella prima edizione del 2018 c'erano state attorno alle 200 candidature ora professore argano racconterà quale è stata invece l'esperienza appunto dello scorso anno attraverso la sua esperienza attraverso il suo contributo cercheremo di mettere in luce quelli che sono gli aspetti appunto centrali no di questa misura e di comprendere come quale possa essere il percorso più corretto per interpretare gli obiettivi del ministero e per tempo diciamo prepararci alla nuova edizione intanto appunto ringrazio il professor argano per la sua presenza oggi e gli cedo la parola a più tardi grazie nina buongiorno a tutte e a tutti sì diciamo che questo diciamo questa occasione cioè il baro del quarto bando quarta edizione di creative living lab che si è rivelato uno strumento interessante per anche osservare la realtà sui territori fatta e popolata di iniziative che in qualche maniera riescono proprio a cogliere la filosofia del del bando cioè quello di coniugare interventi di rigenerazione poi c'è l'aggettivo urbana ma insomma è stato anche in qualche modo come dire allargato no il concetto della dimensione con leve di natura artistico culturale questa è un po la filosofia va ricordato che appunto come diceva nina è un bando del ministero della cultura promosso in particolare dalla direzione generale creatività contemporanea che tra le sue competenze annovera anche i temi legati alla realtà urbana quindi alla rigenerazione periferie come veniva ricordato eccetera è vero quello che mi anticipava l'edizione del 21 quindi la terza edizione ha avuto uno straordinario successo un successo di partecipazione perché se normalmente diciamo il taglio delle domande il numero delle domande era intorno alle 200 proposte nel 21 hanno superato nel 1600 vi lascio solo immaginare cosa ha significato per la commissione di valutazione che infatti ha dovuto a parte che si è assorbita anche l'estate per cercare insomma di leggere guardare con attenzione tutti i progetti e anche perché e questo è il secondo elemento di successo che vale la pena sottolineare la qualità di quello che abbiamo visto era mediamente alta che ha comportato per tutti noi anche la grande difficoltà di poi selezionare come dire in graduatoria quindi dare i punteggi tenendo conto che in qualche maniera poi lo stanziamento era uno stanziamento all'inizio non importantissimo poi visto appunto la grande adesione il ministero ha diciamo aumentato la dotazione finanziaria e addirittura a fine anno ha utilizzato delle ulteriori risorse aggiungendo diciamo scorrendo la graduatoria altre progettualità diciamo a riconoscimento del premio io penso che adesso naturalmente bisognerà leggere con attenzione il nuovo bando tra l'altro tra le considerazioni a valle finito il processo di valutazione eh avevamo anche suggerito diciamo un po' come eh impressione eh immaginando che diciamo ormai in qualche maniera quest'azione eh sarà continuerà a essere seguita dal punto di vista della partecipazione eh e quindi in qualche maniera poteva essere forse consigliato quello di operare nel bando su più linee aumentando in qualche maniera anche proprio lo spazio progettuale le opportunità vedremo quando uscirà il bando però io penso che diciamo per questo incontro per per quello che mi sarà in qualche modo anche presentato la cosa il contributo migliore che posso dare diciamo rispetto all'esperienza che ho fatto che per me è stata fortemente eh istruttiva eh e ha confermato la straordinaria vivacità e vitalità dei territori perché tenete presente che eh questo numero importante di progetti è arrivato praticamente da ogni lato dello stivale dalle grandi città come dalle aree interne dalle isole come fino alle alpi eh non c'è nessuna regione che eh diciamo è mancata comprese eh le regioni magari che alle prime due edizioni avevano presentato si erano caratterizzate per per meno progetti e eh come dire testimoniando appunto quella bontà quella capacità che tra l'altro è anche uno po' dei criteri che vengono sollecitati nel bando ecco io penso che quello che posso darvi eh diciamo in linea generale è qualche punto di attenzione eh perché eh per quanto potrà essere strutturato magari in maniera diversa su più o almeno due linee eccetera insomma lo si li vedrà però alcuni fondamentali principi che hanno ispirato questa azione sono abbastanza sicuro che si manterranno e quindi possono essere come dire oggetto di qualche consiglio che vi posso dare da questa parte del tavolo che eh l'anno scorso mi ha visto appunto nella valutazione valutazione che si manifestava su una serie di fenomeni a cui venivano attribuiti dei punteggi. Allora andiamo ripassarvi un po' a rassegna no? In termini assolutamente come dire basici eh per esempio mh molta attenzione all'interno dell'avviso era la capacità del progetto di avere un'originalità essere un progetto che avesse elementi di qualità e quindi dimostrasse una sua capacità progettuale che magari avesse anche qualche elemento di riproducibilità e che insomma in qualche modo rispondesse agli obiettivi che il l'avviso si poneva. Ecco io credo che su questo alcune piccole indicazioni possono essere date a chi in qualche modo si 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 presenterà su questa quarta edizione. Ma intanto ehm il bando parla di micro progettualità di immediata realizzazione. Cioè l'intervento premia questo tipo di di azioni che sono possono essere presentate eh che intanto come dire devono avere una capacità di attrazione eh abbastanza concreta devono essere delle eh come dire proposte con un'effettiva capacità di atterraggio di concretizzazione qualora fossero finanziate. Devono sicuramente questo è una cosa a cui noi abbiamo prestato comunque un occhio di attenzione eh caratterizzare anche nuove forme di utilizzo dei luoghi che poi magari sono oggetto di rigenerazione che naturalmente qui è intesa non solo dal punto di vista fisico ma è un concetto di rigenerazione come dire più ampia che agisce moltissimo sulla comunità e lo vedremo tra un secondo. Penso che una chiave di successo eh l'hanno avuta soprattutto quei progetti che hanno saputo con la loro proposta interpretare molto bene gli obiettivi che venivano dati nell'avviso. Questo è stato un elemento sicuramente fortissimamente rilevato dal dalla commissione. E così come un altro importante criterio veniva assegnato dal bando alla capacità di coinvolgere figure professionali eh che si eh caratterizzassero per una multidisciplinarità e quindi anche per oltre naturalmente per una qualificazione dei titoli del percorso delle esperienze fatte in modo da apportare al progetto un valore aggiunto significativo. Ecco questo eh come dire eh è stato un altro elemento solo come dire dava luogo allora addirittura venti punti su su sul totale ma insomma in qualche maniera era proprio la capacità di legare quelle figure alle azioni e i contenuti che i progetti poi in qualche maniera esponevano si si eh proponevano di realizzare. E dove abbiamo visto che c'era e questo è un discorso che vale per tutto diciamo tutta la partecipazione con un progetto. Eh lo sfuggire è un po' la retorica che certe volte può animare questi progetti e cercare con contenuti come dire che riescono a essere anche innovativi. Apro solo una parentesi. Qualche progetto per esempio era molto carico. Troppo carico. Tante cose che accadevano. Non come dire nemmeno sempre legate tra di loro. Allora quello che ci è sembrato che fosse brillante intelligente era che eh alcuni progetti molti progetti in verità su 1600 e passa invece riuscivano a come dire identificare delle azioni coerenti utilizzando figure professionali multidisciplinari eccetera perfettamente attinenti a quel tipo di azioni e il tutto veniva in qualche modo legato eh in modo assolutamente coerente con eh gli obiettivi che venivano dati. Con questo voglio dire che eh in generale eh diciamo una proposta ha bisogno di avere una strategia progettuale. Non non deve impressionare con chissà quali elementi fantasmagorici eh deve avessere come dicevamo prima concreta per questo si parla di progetti immediatamente realizzabili e deve legare le cose in modo che praticamente si capisca che c'è un percorso. A monte il form diciamo del 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 bando allora lo prevedeva era utile in qualche maniera come dire cercare di identificare il contesto in cui si inseriva il progetto e in alcuni casi ad esempio l'analisi del contesto e quindi quello che chiameremmo la diagnosi fatemi usare questo termine in cui poi il progetto con le sue politiche con le sue azioni andava in qualche maniera ad affrontare delle questioni delle criticità dei temi eh ecco quello sicuramente si vedeva una una certa scorrevolezza e soprattutto la capacità veramente del progetto di incidere. Naturalmente ehm un terzo criterio diciamo ritenuto importante era proprio quello del coinvolgimento. Il coinvolgimento in diverse direzioni. Intanto il coinvolgimento di chi realizzava il progetto attraverso tutte quelle forme di collaborazione di partenariato e qui devo dire che è stato veramente interessante come dire le geometrie variabili che abbiamo notato in collaborazione dove magari c'era il comune, l'ente locale, la parrocchia, la scuola, l'associazionismo naturalmente grande protagonista dell'anno scorso costruito come dire queste piccole reti, questi piccoli accordi di partenariato in modo che ciascuno svolgesse un ruolo nell'ottica generale del progetto e dove questo ruolo era effettivamente in qualche modo calato bene su quello che il progetto richiedeva insomma al di là del dell'effettiva importanza già soltanto di avere strutturato una forma di cooperazione eh il progetto girava bene funzionava bene quindi coinvolgimento agli stakeholder coinvolgimento di degli attori progettuali in queste forme che vi dicevo ma anche soprattutto e questo è il cuore un po' dell'azione il coinvolgimento della comunità la possibilità che i cittadini eh diventassero anche loro attori protagonisti dell'intervento eh quando parlo di attori intendo dire con una funzione attiva magari con la possibilità di essere veramente presenti in passaggi di coprogettazione all'interno diciamo dello sviluppo del del singolo intervento ehm per darvi un metro magari era più interessante il il progettualità che avevano all'interno processi di partecipazione veramente come dire all'avanzamento allo sviluppo delle azioni poi previste piuttosto magari che eh qualcuno proponeva più un livello di ascolto e basta eh ecco io penso che dove si riesce a avere un coinvolgimento maturo che vede tutte queste possibilità la possibilità la possibilità di fare delle ricognizioni la possibilità di fare interviste la possibilità di fare ascolto ma la possibilità poi di coinvolgere direttamente attivamente le persone certamente diventa un elemento premiante. Un quarto criterio eh che è quello che sta in qualche modo sempre di più caratterizzando no queste queste opportunità attraverso call, bandi, avvisi è come dire l'idea che un progetto finanziato non sia una meteora non sia una cosa di passaggio che finisce lì e quindi abbia la capacità di sviluppare delle ricadute nel tempo. Ecco questo diciamo in qualche maniera è stato attenzionato perlomeno dalla commissione diciamo da me dai miei colleghi e i miei colleghi perché volevamo proprio evitare che ci fosse in qualche modo veramente l'azione spot il festivalino che si fa lì e poi no è una location come altre quindi non rilevava eh l'intervento di street art che eh come dire mh questo tipo di bando è stata veramente fortemente gettonata ma la possibilità invece di prevedere e di domandarsi con quello che veniva proposto che tipo di effetti che tipo di impatti possono prodursi e come quindi quell'azione possa avere degli elementi di continuità non a caso il bando dell'anno scorso per esempio dava un'indicazione così come piccolo requisito requisito di presidio continuativo cioè la possibilità che quell'intervento rigenerativo avesse poi un qualche eh come dire presupposto per poter essere governato anche nel tempo perché potesse diventare l'innesco di altre azioni naturalmente azioni che potrebbero come dire continuare su altre su altre vie magari su altre linee di finanziamento e cioè la capacità del progetto di gemmare degli impatti di produrre degli effetti e la possibilità nel progetto non solo di come dire citarli come eventualità ma eh certamente e questo lo abbiamo visto e lo abbiamo apprezzato è la capacità anche ad esempio di valutarli di andarli a rilevare e quindi di prevedere a valle dei singoli progetti quelle piccole azioni di di misurazione di valutazione per capire se effettivamente quanto ci si era in qualche modo precisato era accaduto in che forma in che entità naturalmente come dire abbiamo visto anche per alcune come dire eh progettualità che lavoravano moltissimo ad esempio sullo spazio no che è stato anche il grande eh veramente il grande protagonista delle proposte eh la possibilità che alcune attività come dire continuassero nel tempo identificando anche delle possibili forme di sostenibilità ecco questo sicuramente eh come dire è un elemento interessante ai fini del del diciamo della politica della direzione generale è proprio nell'ottica che vi dicevo prima di non creare delle cose spot ma di cercare il più possibile di costruire delle condizioni quell'intervento di rigenerazione diventa la possibilità l'opportunità per come dire attivare delle altre possibilità l'ultimo criterio non non banale che cui il ministero era molto attento e che quindi è diventato in qualche modo uno degli elementi valutativi è la congruità del piano economico finanziario e quindi la capacità di immaginare un budget con delle fonti di eh diciamo di 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 introito di ricavo eh che fosse pertinente che fosse appropriato nelle nei diversi impegni di spesa nelle diverse voci di costo al tipo di intervento che poi veniva illustrato proprio come progettualità ci ha colpito vi devo confessare diciamo in quella in quella edizione eh ricordatevi che eh insomma il ventuno eh è stato comunque un anno fortemente interessato ancora dalla dalla pandemia anzi allora il bando aveva una richiesta particolare come dire di eventuale eh misure per realizzare il progetto in condizione di peggioramento diciamo di quello che era in qualche modo ciò che vivevamo tutti con la pandemia e quindi delle soluzioni per poter in qualche modo realizzare le cose con tutte le accortezze eh con anche un'eventuale diciamo rilevanza di misure destrittive ma quello che ci ha colpito proprio perché eravamo un po' nel 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 mood negli effetti della pandemia è quello che eh rispetto ai budget magari delle prime edizioni un fortissimo sbilanciamento verso i costi eh legati alle persone alle prestazioni lavorative in qualche caso che insomma diciamo ci sta no? Dopo due mesi di chiusura dopo due anni di chiusura con tutto quello che quelle realtà hanno vissuto quindi diciamo ci è sembrato che eh fosse naturalmente conseguente insomma conseguente in qualche caso però questo poteva creare qualche squilibrio rispetto proprio alla fattibilità del 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 progetto quindi suggerimento è quello naturalmente di prestare attenzione diciamo nel nel formulazione del del preventivo del budget in modo che ci sia veramente veramente una corrispondenza tra quelle che sono le voci di spesa e gli interventi che verranno fatti non solo nelle prestazioni di lavoro ma anche in tutte quelle altre tipologie di costo che necessariamente si rendono necessarie scusate il bisticcio eh penso che sarà confermato che eh su questo punto potrà esserci qualche vincolo ad esempio non veniva riconosciuta la manutenzione no di sito di uno spazio e nemmeno la messa in sicurezza l'idea era che naturalmente si trattava in modo particolare di spesare l'intervento in quanto tale con tutte le sue rilevanze con tutti i suoi contenuti che eh vi posso testimoniare sono stati come dire veramente proiettati in tutte le direzioni parlo dal punto di vista proprio diciamo dei contenuti culturali anche con un bel mix legato in qualche maniera al design urbano al tatticismo urbano quindi diciamo a quella grammatica progettuale che magari caratterizza un po' più i mondi del design dell'urbanistica e non solo quelli della produzione culturale quindi come dire un bel meticciato di intenti di strumenti di idee quindi ecco io non gli annoio oltre queste sono secondo me le 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 cose che probabilmente eh insomma saranno in qualche modo riaffermate che sono oggetto quindi di valutazione e su cui l'originalità la distintività la singolarità del progetto che deve quindi avere un buon livello di analisi una eh come dire perfetta pertinenza dell'intervento rispetto a quello che è emerso dall'analisi al perché si fa quel tipo di intervento e a una strutturazione che abbia naturalmente appunto quel profilo strategico che dicevamo prima dove voglio arrivare come ci arrivo cosa utilizzo perché e così via non aggiungo altro ridò la parola a nina che quindi può entrare nel merito del dell'incontro e io dovrò scappare perché ho un altro impegno da un'altra parte ma eh insomma dire buon progetto a tutti grazie mille lucio ehm come dire riprendiamo quindi più che questo sguardo no sulla eh misura di creative living lab eh cercando di eh rimettere a fuoco questi elementi che eh già appunto lucio ha eh introdotto e che ci possono aiutare a pensare eh alla proposta da configurare per quando appunto il bando uscirà. Eh primo tema eh l'ente eh titolare della misura come diceva Lucio è la direzione generale creatività contemporanea quindi eh eh sì eh lavoriamo sui progetti di rigenerazione ma con una forte componente per l'appunto ehm culturale eh con una visione chiaramente eh di cultura contemporanea molto ampia che quindi vada dalle arti visive ehm alla alle arti applicate appunto il design, la moda, l'architettura eh la ma dall'interno delle arti le fotografie, la videoarte ehm e che quindi mh tragga origine in qualche maniera no? parta proprio da eh questa eh contribuzione a questo contributo culturale per innestare eh dei processi di rigenerazione. Ehm il focus di creative living lab è quello di eh diffondere sul territorio nazionale attività culturali creative di natura multidisciplinarie e basate appunto su processi collaborativi di partecipazione e innovazione sociale. Quindi si vuole sostenere ehm progetti eh appunto culturali che ehm tragano origine no? Anche da questa dall'interazione di mondi da eh una eh quando Lucio parlava di meticciato esatto quindi di meticciato sia di ehm discipline eh che di ehm processi che di ehm eh modalità appunto di innovazione. Quali possono essere quali sono diciamo gli obiettivi eh specifici del bando? Eh favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione eh finalizzati ovviamente appunto al miglioramento della qualità della eh vita. Quindi basarsi su una eh coprogettazione no? Comunque per l'appunto su una modalità inclusiva e eh di coinvolgimento delle eh comunità. Ehm sperimentare eh metodologie innovative e eh inclusive ehm che sviluppino eh senso di identità e dei partiti. Sostenere processi di innovazione e trasformazione culturale, migliorare i servizi, la fruizione di funzioni eh culturali, incentivare l'attivazione di percorsi di partecipazione e eh autocostruzione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e quindi vediamo che i soggetti coinvolti possono essere eh vari e che eh come dire hanno la ehm funzione in una qualche maniera no? Di portare dei punti di vista, delle prospettive chiaramente differenti. Ehm promuovere un sistema di autoorganizzazione dal basso ehm tale da favorire un processo di empowerment e riappropriazione delle eh comunità coinvolte, sostenere produzione di nuove opere, eh incentivare buone pratiche da riutilizzare appunto nei processi di rigenerazione urbana, eh sostenere produzione e ricerca artistica dei giovani talenti e incentivare la creazione di reti nazionali per la promozione e lavoralizzazione dei eh territori fragili, quindi si contraddistinti diciamo da elementi di marginalità. Queste sono le nostre parole chiave, no? Quindi il perimetro all'interno del quale muoversi nella elaborazione della propria eh proposta. Eh chi può partecipare soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro? Ehm è prevista la partecipazione sia in forma singola che in forma invece di eh partenariato quindi con eh un proponente singolo o un proponente capofila con partner di progetto in questa seconda eh in questa seconda ehm forma è necessario un accordo di partenariato siglato e eh che dovrà essere ovviamente portato nella documentazione ehm del ehm del del sì della candidatura ehm chi deve essere coinvolto? Almeno un esperto nel settore di della diciamo un esperto di rigenerazione urbana, un professionista, un giovane professionista diciamo quindi giovani talenti eh quindi di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni e un team disciplinare composto da eh figure appunto ehm attive nel campo culturale di profili eh differenti. Eh il team multidisciplinare lo diceva già Lucio è elemento eh qualificante necessario e qualificante a seconda chiaramente della tipologia dell'esperienza dei eh soggetti che vengono coinvolti ehm a questo proposito il ministero richiede no dei eh curricula ehm con una serie di requisiti per ognuna delle figure potenzialmente coinvolte all'interno eh dei team ehm architetti, paesaggisti, designer, ingegneri che abbiano l'attivo, la partecipazione ad almeno un progetto di rigenerazione urbana, artisti eh con almeno una personale in spazi espositivi qualificati, fotografi anche in questo caso ehm con almeno una ehm una personale ehm in spazi espositivi eh qualificati o la pubblicazione dei propri lavori eh sempre in riviste insomma ehm editoria diciamo del settore. Musicisti, registi, film maker che debbano aver realizzato produzioni eh di rilievo, psicologi, sociologi, antropologi eh che abbiano partecipato a progetti o pubblicazioni eh in ambito diciamo di rigenerazione eh e comunque qualsiasi altra eh figura eh coinvolta deve avere appunto all'attivo delle esperienze in ambito di eh rigenerazione. Eh all'interno comunque di questi team multidisciplinari ci dovrà essere anzi della proposta ci dovrà essere appunto un responsabile scientifico e poi un responsabile appunto di un esperto di rigenerazione urbana, di una rigenerazione più in una lettura più ampia. Ehm queste due figure possono coincidere eh è chiaro che vista l'ampiezza, la varietà eh e già l'identificazione di una serie appunto di eh professionisti eh individuati dal Ministero eh l'elemento progettuale no? E di eh una composizione appunto di prospettive eh differenti è eh elemento connaturato chiaramente del processo di rigenerazione ma è estremamente eh voluto eh per appunto lo sviluppo di questo eh bando. Eh i finanziamenti ehm i finanziamenti ottenibili diciamo sono di finanziamenti di eh dimensioni molto limitate, stiamo parlando almeno nelle diciamo passate edizioni comunque non si supererà tendenzialmente questo tetto eh sono finanziamenti di 50.000 euro quindi eh sicuramente appunto eh diciamo ristretti eh sono finanziamenti però che coprono al 100% i costi eh ammissibili. Quali sono le spese ammissibili? Spese adesso chiaramente tutte queste indicazioni che stiamo dando sono delle indicazioni di massima e che dovranno essere poi successivamente approfondite con l'uscita del nuovo testo però è un perimetro abbastanza certo all'interno del quale muoversi quindi spese di personale amministrativo e tecnico di supporto al progetto, le spese di funzionamento, le spese di produzione, le spese di organizzazione, gestione e monitoraggio, le spese di viaggio e d'alloggio, le spese di trasporto eh di allestimento ehm il noleggio della strumentazione tecnologica, delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potrebbero essere inseriti eh spese per attività di comunicazione necessaria e eh vabbè altri diciamo eventuali costi eh accessori. Ehm teniamo conto che come diceva prima Lucio eh viene valutata anche la l'effettiva diciamo realizzabilità dei progetti. Tendenzialmente eh i progetti dovrebbero essere si immagini diciamo realizzati tra i 180 giorni al massimo l'anno quindi comunque dei progetti che possano partire in tempi molto stretti e conclusi appunto in un arco temporale comunque limitato. Eh la griglia di criteri di valutazione ehm come dire rimette eh l'attenzione su quegli elementi già eh ampiamente eh approfonditi e eh spiegati raccontati ehm dal professore Argano. Quindi qualità, innovatività e riproducibilità della proposta eh e rispondenza alle finalità dell'avviso. In particolare direi qualità e capacità di innovare appunto le originalità, no? Originalità della proposta. Multidisciplinarità e qualificazione delle figure professionali coinvolte. Quindi grande attenzione ai curriculum che vengono ehm che vengono eh presentati sia in termini in termini di eh ampiezza e varietà che di eh esperienza eh verticale diciamo sul tema. Coinvolgimento di associazioni di comunità del territorio. Come ci siamo detti uno degli obiettivi del bando è quello di creare delle delle reti. Quindi che venga eh presentata la domanda come partenariato o meno eh sicuramente eh si deve puntare appunto ad una eh ad un accordo, ad un coinvolgimento ehm di eh di vari soggetti, dei vari stakeholder presenti sul territorio. Prospettive ricadute a medio e lungo termine la proposta. Quindi attenzione agli impatti di che tipo, come li possiamo misurare, quando li misureremo diciamo con quali strumenti e quali sono i nostri le nostre aspettative, quindi quali sono i valori target. Congruità del piano economico finanziario. Ehm lo diceva Lucio eh immaginiamo appunto di creare un budget che non preveda una una eh concentrazione magari di eh risorse eh su un unico tema eh ma che sia sostenibile no? E che permette effettivamente la realizzazione di ehm della come dire del complesso di eh interventi eh proposti. Ehm come si potrà fare la mh candidatura? Attraverso il portale bandi della direzione generale creatività contemporanea che è lo strumento su cui eh la DG si eh appoggia appunto per tutte le misure ehm di cui è titolare eh e quindi con un caricamento sostanzialmente eh online di che cosa? Di una documentazione amministrativa e di una documentazione tecnica eh che prevede ehm appunto diciamo informazioni eh generali eh sul progetto eh sul soggetto ovviamente eh proponente eh o sui ehm capofila e eh partner di progetto, una relazione descrittiva eh del del progetto presentato, il cronoprogramma, quadro economico e curricula dei soggetti eh proponenti e delle figure professionali richieste. Eh alcuni elementi di nuovo da ehm sottolineare, da eh approfondire no? Nella costruzione eh delle proprie proposte. La qualità artistica e culturale rimane questo un bando del Ministero della Cultura, quindi eh intento a promuovere una dimensione qualitativa del prodotto eh culturale presentato. Eh consolidare l'offerta culturale attraverso il potenziamento di attività ehm artistiche, educative e di welfare capaci anche di coinvolgere le differenti eh comunità. Eh sostenere il consolidamento di eh reti territoriali esistenti o la costituzione di eh nuove di nuove reti e sviluppare elementi di coprogettazione con eh gli altri soggetti appunto eh coinvolti. Ehm assicurarsi diciamo dare eh una congrua attenzione a quella che è la spera amministrativa e gestionale sperimentando modelli innovativi e di governance ehm che quindi possano eh immaginare garantire una sorta una certa sostenibilità di gestione economica ehm e organizzativa eh del del progetto ehm nella sua nell'intero corso della sua realizzazione e possibilmente appunto e anche successivamente. ehm dimensione prettamente diciamo di rigenerazione collaborativa ecco mettiamo così del eh del progetto quindi eh trasformare ehm o sviluppare questi processi di trasformazione di rigenerazione appunto con il coinvolgimento delle eh delle comunità ehm richiamiamo uno degli obiettivi specifici che era proprio quello di lavorare diciamo con appunto conforme chiaramente eh di progettazione dal basso. Eh stimolare però eh anche modelli di imprenditorialità eh innovativa in ambito culturale e creativo ehm diversificare eh le attività in ambito culturale creativo e sociale attraverso inclusione, accessibilità delle offerte artistiche e culturale, la promozione di eh di integrazione di forma diciamo di integrazione appunto e diversificazione delle azioni eh culturali. Eh lavorare anche sul tema eh della formazione, dell'empowerment no? E quindi di programmi di accompagnamento e formazione che permettano non solo di costruire ma anche di trasferire e con e condividere nuove competenze che possano essere strategiche per eh la eh lo sviluppo del territorio, il miglioramento diciamo della eh della qualità della vita eh locale e ragionare su eh il tema dell'autovalutazione e quindi intraprendere appunto processi di eh riflessione interna. Questo anche connesso con il tema della generazione degli impatti ehm e quindi dell'individuazione di quelli che sono gli ambiti su cui il 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 bando vuole, scusate il progetto vuole eh intervenire e quelli che sono gli obiettivi che eh ci diamo. Ehm per oggi il nostro racconto su Creative Living Lab eh finisce qui, non so se ci sono delle domande ehm a tutti diciamo che appunto non appena poi ci sarà eh la eh pubblicazione del nuovo bando eh chiaramente eh verremo approfondiremo eh alcuni aspetti specifici ehm diciamo suggeriamo però eh a tutti coloro che pensano appunto di partecipare di iniziare ad immaginare a strutturare il proprio progetto perché tendenzialmente poi i tempi tra la pubblicazione del bando e eh la scadenza di sottomissione delle domande saranno abbastanza stretti. Ehm allora grazie a tutti per la presenza ad oggi e ci rivediamo allo sportello al prossimo webinar. Buona giornata.